Salve, salve, sono Checco del Locando del Capitano e presenterò a Toscana in bocca del pollo tartufato con un pochino di funghi, ci sarà un 5% di funghi. Questo pollo tartufato è fatto tutto con ingredienti toscani, con tartufi della Toscana, tartufo nero a questo momento. Perché faccio questo piatto? Anche per far vedere che la Toscana non è fatta altro che di bistecche, di trippa, di fagioli ed altre cose, ma c'è anche dei piatti più prelibati, più particolari. E questo pollo è una ricetta molto facile anche, gustosissima a mangiare perché è piacevole sentire questa zettina di tartufo che ti si scioglie in bocca con questi pezzettini di pollo piccolini. Vi dico la ricetta un attimino, è un po' tagliato a pezzettini, a cubettini piccolini, poco più di una ravanella. Vengono infarinati e poi saltati in padella con un po' di vino bianco e un po' di burro, tipo una scaloppina a vino bianco. A questo punto ci si ferma lì, dalla parte si prende della salsa di tartufi che prepariamo noi anticipatamente. Tartufo nero fresco che lo maciniamo, in un momento che costa poco lo metto da parte il tartufo, bene, in vasi. Però volendo trovate anche la salsa tartufata nel supermercato già pronta. Questa salsa tartufata la metto dopo. Ora mettiamo un padella, un altro po' di burro, una noce di burro appena, un po' d'olio e un pizzicottino di funghi porcini. Li facciamo soffruggere con un pochino di aglio e un pochino di cipolla. E poi una volta cotto ci mettiamo dentro questa salsa tartufata, la facciamo cuocere insieme 2-3 minuti e poi mettiamo anche il pollo insieme, altri 3-4 minuti di cottura con pochissima panna appena appena per legare. Ma appena poca perché se no si rischia di falsedottare il piatto, deve legare e così va bene. La ricetta è finita, ci si mangia il pane e è molto buona.